Certamente stiamo assistendo da qualche anno a questa parte, la sanità è in questo momento in passivo, c'è un passivo e quindi un rientro delle passività, però in questo momento sono in sofferenze gli ospedali, manca personale, mancano i primari, quindi grazie agli operatori sanitari attuali con il loro sacrificio di assicurare i servizi. Quindi già questo è un lato negativo perché vediamo che i nostri utenti sono costretti ad emigrare in altri territori, quindi questo è anche un danno economico per il nostro territorio.